ragazzi buonasera buon pomeriggio buongiorno siamo qua in un video per elencarvi un po' quali sono le caratteristiche del percorso della prova olimpica che si terrà ora italiana sabato mattina partenza ore quattro di notte quindi arrivo all'incirca verso le le undici undici e mezzo la mattina e e poi successivamente dopo tre giorni ci sarà la la cronometro e allora partiamo subito con il percorso per la descrizione del percorso della prova in linea maschile eccoci qua allora un percorso abbastanza complicato è uno dei percorsi più difficili mai mai tracciati per l'olimpiade simile a quello di pechino come dislivello qua andiamo sui 4362 metri c'è il doshirod la prima salita molto lunga anche se poi viene considerata 4,3 km e basta però è molto lunga lungo falso piano per arrivare in cima al doshirod poi un falso piano e il kagosaka pass una salita abbastanza facile che la ritroveremo nel finale poi abbiamo la scalata al monte fuji che non arriva non si arriva chiaramente in cima al monte fuji però si arriva a 1449 metri una salita che poi la vedremo nel dettaglio e poi c'è una un mange e bevi con passaggio sulla linea dell'arrivo a 171 esimo chilometro e poi c'è la parte diciamo decisiva il miku mikonui pass mikuni 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 pass 6,8 km al 10.1 per cento e poi il kagosaka pass che è la ripetizione del della prima salita della seconda salita di giornata mikuni punte al 22 e ora tanto la 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 facciamo vedere poi discesa e c'è poi un paio di strappettini prima di arrivare sul traguardo diciamo che dopo il monte fuji non esiste più pianura fondamentalmente questa è il doshirod è considerata appunto gli ultimi 4,3 km e basta però diciamo che è una salita abbastanza pedalabile servirà a scaldare le gambe degli atleti diciamo seconda salita il kagosaka pass che sarà presente come seconda e quarta salita di giornata pedalabilissima un premio montagna di quarta categoria come c'è scritto qua stile tour de france e poi iniziano le vere salite questo è la scalata al monte fuji 15,4 chilometri pendenza media 5 8 6 per cento massimo 10 è un po a gradoni sale un po a gradoni è lunga io qua non prevedo chissà cosa sinceramente poi ne parliamo dopo poi c'è la terza salita il mikuni pass e qui qui sarà tosta pendenza media 10,2 per cento e quasi 7 chilometri di salita con il tratto centrale praticamente un piccolo mortirollo di lei perché questo è duro fondamentalmente è la metà del mortirollo la pendenza è la solita la pendenza media quindi qui si deciderà la corsa poi di nuovo il mikuni pass e poi si giungerà all'arrivo allora cosa ne dici del percorso nulla è un percorso che nella prima faccia è così visto globalmente ricordo più lombardia no come per fare un paragone il finale però ricorda più la liegi quindi la discesa e l'arrivo in pianura quindi c'è un po di strappettini a non è tutto però non lo so è duro è però è difficile che che si riesca a fare una grandissima cioè è più probabile secondo me che arrivi un gruppetto ristretto quindi sarei più predisposto a prendere uomini veloci anche non solo scalatori ma anche uomini che poi a uno sprint possano dire la sua non so come come la vedi ok allora andando un attimino a visionare la start list del di questa di questa olimpiade abbiamo il venezuela con aular va bene ok nazionali diciamo l'azerbaijan bella ok andiamo partiamo dalla nuova zelanda bevin e george bennett forse bennett avrà qualche chance forse la polonia bodra maica perché lombardia ha fatto bene comunque eh bodra maica e kiatoski per la polonia per la russia sivakov zakarin che con la discesa finale non lo vedo favoritissimo blazov poi c'è se poi lituania skewins e neilands il canada non c'è per i nostri appassionati james piccoli purtroppo ma c'è ugo hull woods e boven poi c'è sepulveda per l'argentina amador per la costa rica il giappone il famoso il mitico harashiro e masuda abbiamo la kazakistan interessante lucenko pronski e gusev lucenko qua potrebbe essere una buona pedina non a squadra chiaramente poi andiamo nei nazionali più interessanti eccole qua allora qua merita l'ingrandimento della pagina andiamo sulle nazionali interessanti eh di giornata dell'olimpiade la Olanda 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 abbiamo Tom du Moulin che farà anche la prova appunto a cronometro Mollema, Keldelman, Van Barle e Avic questo è un giovane Van Aert e Van Avermaet, Beno e Van Sevenant anche il belgio ragazzi ha due punte e Beno e Van Avermaet sono usciti male, Beno anzi tempo da questo Tour de France, Colombia, Quintana, Urani, Ghita, Chavez e Dani Felipe Martinez, Dani e Felipe Martinez, in che senso no? Martinez ha il covid e quindi non ci sarà. Ah ok giusto giusto è verissimo che poi oltretutto non lo possono neanche cambiare se non sbaglio perché ormai è già scaduto il termine. avrebbe fatto anche la crono e quindi niente da fare. Comunque attendete aggiornamenti al riguardo. Poi Cavagnà, Confrois, Godou, Marten e Elisonde per la Francia, Italia, Caruso, Moscombe, Tiol, Ciccone, Nibali, Spagna, Valverde, Gorka, Ioni, Zagirre, Gesù Serrada e Omar Fraile, l'Austria con Perstein e Mulberger e Conrad, la Danimarca con un punto interrogativo su Fulsang, Asgren, Juliansen e Valgren, la Germania con uno Schakman che si è preparato prettamente per l'Olimpiadi, Bookman, Arndt e Jeske, la Gran Bretagna con Thomas, i due Yeats, Simon e Adam e Guggenhardt, la Norvegia, Johansen, Foss, Leknesud e Olegard. Olegard ragazzi a me piace eh, che non è il percorso per lui però a me piace. No. Roglic, Pogacar, Trattnik e Polans per la Slovenia, Svizzera, Irsh, Kung, Schar e Mader, Gino Mader, Irlanda, Daniel Martin, Roche, Dunbar, Sudafrica, The Bond, Gibbons, Dlamini e poi abbiamo il Portogallo, Almeida, Oliveira, Slovacchia, Jurai, Sagan e Cubis, eh, McNalti e Kradok, Carapaz e Narvaits per l'Equador, Attila Walter per l'Ungheria, il Kudus, grandissimo per l'Eritrea e poi si scrive, vabbè, allora è grosso ma non è sicuramente le Olimpiadi per lui, l'Australia, Danny Sport, Darbridge e Hamilton, la Repubblica Ceca anche qua grossi nomi non ci sono, c'è Stibar ma non è assolutamente il percorso per lui. Questi sono tutti i partecipanti. Allora, detto questo, da questa lista, che nomi facciamo per il percorso in linea? Io volevo, invece di fare nomi volevo dire su chi ha dei dubbi, i dubbi principali e sono Fulsang il primo perché nonostante il suo obiettivo principale della stagione fosse l'Olimpiadi e sappiamo tutti che non è in pole, è uscito malissimo dal Tour e secondo me difficilmente riuscirà a recuperare. Un alto dubbio grosso, Roglic, sarebbe uno dei favoriti però anche lui rischia di arrivare un po' colto, nel senso avrebbe avuto bisogno probabilmente di più tempo per recuperare, però vedremo. Alto dubbio e bene, non si vede dal giro, il percorso, la fine con questa discesa è adatto a lui? Non lo so. Anche se reggesse nella salita potrebbe poi pagare la discesa finale. Alto dubbio, ultimo, l'Italia. Su chi punta l'Italia? Lo chiede a te. Allora io ti rispondo invece che nei miei tre nomi, se dovessi fare tre nomi, visto che l'abbiamo chiesto in live, nell'ultima live che abbiamo fatto, se io ti dovessi dare tre nomi io non metto un italiano perché secondo me ci sono dei corridori che si sono preparati prettamente per l'Olimpiade e io te ne dico uno, Shackman e poi ce ne sono due che sono usciti benissimo dal Tour de France. Van Aert e Pogacar. Io ti metto questi tre nomi, sono abbastanza scontati, è vero. Anche Almeida è uno che si è preparato esclusivamente per l'Olimpiade. Ci sono quelli, vedi Nibali o vedi altri, che hanno fatto il tour in prospettiva Olimpiade, però per tanti non è andata bene. No, infatti ci sono queste tre categorie. Roglic chiaramente vabbè, faceva il tour per vincerlo, però poi chiaramente sfortuna ha voluto che sia ritirato prima. Simon Yates era lì, per preparare le Olimpiade e è uscito malconcio. Nibali non è uscito con una gran gamba, Fulsang non è uscito con una gran gamba, Beno, boh, l'hai visto al Tour? No, no, vabbè. Quindi è tutta gente che andrà, chi ha preparato l'Olimpiade facendo il tour probabilmente sono tutti fuori condizione. Alcuni ne sono usciti bene dal Tour, cioè ci sono tre categorie. No, quelli che hanno fatto il Tour, quelli che hanno fatto il Tour in prospettivo Olimpiadi con zero interesse per la classifica o per i successi. Valverde potrebbe essere un nome, dai. Forse Valverde, però ragazzi, carta di identità a palla, eh. Ora, con tutto il rispetto per il Don Aleandro. E quindi questo è quanto. Però mai dire mai. Quindi i miei tre nomi sono quelli. Invece Moula vi ha lasciato con dei quesiti che poi risolveremo nella live di venerdì sera, prima della prova olimpica, chiaramente. Abbiamo un'altra, un'altra, diciamo, un'altimetria della cronometro da far vedere, perché la cronometro comunque fa parte della prova olimpica, ovviamente. La cronometro in questo caso è una cronometro abbastanza complicata. Non è una cronometro banale, come si suol dire. Eccola qua. È una cronometro che misura 44 chilometri, quindi... Ah, ricordiamoci che il percorso, non l'ho detto, il percorso olimpionico comunque supera ampiamente i 200 chilometri, eh. Quindi... 234. 234. Questa invece è di 44 chilometri, presenta praticamente mai pianura. Ci sono due salite da un paio di chilometri, ciascuna è la la solita, perché è un giro percorso due volte del solito percorso, fondamentalmente, e però non c'è mai pianura. Quindi bisogna sempre rilanciare, spingere in salita, guidare bene la bicicletta, la crono in discesa. È tecnico come percorso e non è banale. No, è impegnativo, è impegnativo. Non è assolutamente banale. È un percorso in cui bisogna andare anche comunque abbastanza bene in salita, eh. Cioè, non è proprio da specialisti piatto, sai, classico. Eh, bisogna rilanciare spesso, quindi ci vuole, comunque ci vuole una grande condizione, più che altro. Eravamo abituati, eravamo abituati, mulla, a vedere i percorsi mondiali, Olimpiadi, a crono di un certo tipo, abbastanza piattoni, dal rapportone. Questo è tosto, come anche la prova in linea, chiaramente, no? Sì, sì. Però questo è veramente tosto. È giusto, sì. Guardiamo, guardiamo appunto… Però in un uomo diciamo che è molto più semplice, no, individuare quelli che potrebbero fare bene, perché sono quelle, poi, alla fine. Secondo me non ci saranno grandissime sorprese a cronometro. Più probabili della forza allena. Guardiamo i nomi che faranno parte della prova a cronometro. Interessanti, diciamo solo quelli interessanti. Guarda quelli che è, guarda solo quelli che potrebbero… Allora, Vlasovni, Bevinni, Lucenco forse, attenzione, Lucenco che viene da un'ottima prova fatta a Delfinato, che ha vinto. Poi abbiamo De Bond, no, Kiatowski qualche anno fa poteva dare dire la sua, Bodnar no, Vanarte, Venepul, entrambi, entrambi possono far bene. Dumoulin, lui è uno di quelli che addirittura non ha fatto il tour per prepararsi a questa, prettamente a questa prova, non è che punterà la prova in linea, prettamente a questa. Quindi, attenzione, io dico attenzione, mai dire mai. Poi abbiamo Ganna-Bettiol, Bettiol non credo. Ganna, ragazzi, sì, per Ganna non sarà facile, perché il percorso, l'abbiamo visto, è molto difficile. Quindi… La pista potrebbe distrarlo, però sai, cioè i rivali ci sono, ce ne sono tanti. Eh sì, sì. Poi c'è Oliveira-Ni, Almeida, Almeida sì, potrebbe essere… Almeida sì, ha anche il percorso movimentato. Up and down. Garen Thomas, uscente dal tour assolutamente non è tra i favoriti, ma forse nemmeno nei primi cinque, nei primi dieci, onestamente. Assolutamente. Togo Gennart non credo proprio. McNulty, lo sapete, è la mia non simpatia per questo corridore, però potrebbe far qualcosa, ma nella top ten direi, top cinque non ce lo vedo. Top ten già è dura, eh. Ron Dennis, quest'anno ha altalenato prestazioni ottime e prestazioni scarse a cronometro, quindi anche lui c'è un grosso punto interrogativo. Daniel Felipe Martinez, l'abbiamo detto, che non prenderà parte alle Olimpiadi causa Covid. Kasper Asgren, potrebbe essere un buon nome, perché è uno di quelli che si difende in questa tipologia di crono. Quindi attenzione. Cavagnà è tutto da vedere, perché Cavagnà in una crono del genere, secondo me, non è nei favoriti, perché in salita non è un drago. Quindi Cavagnà lo metto. Però comunque è sempre un nome. Sì, lo metto nella top ten. Poi ricordiamoci che questa prova viene dopo la prova in linea, quindi, sai, mai dire mai, eh. Voglio vedere come andrà quella, chiaro. Come andrà quella, è chiaro. Cavagnanni, Shaquan potrebbe andare bene, perché è un percorso che gli si addisce per la prova a cronometro. Poi c'è Nicolas Roche, non lo vedo tra i favoriti. Roglic, bisogna capire come è uscito. Roglic è la grande coin. Eh, lo vedremo alla prova in linea. Anche se credo che, che, credo che Pogaccia restituisca, diciamo, un po' il favore come fece al mondiale, se Roglic sta bene. Eh, poi vediamo, poi vediamo. Eh, non lo so, non lo so. Questo è difficile da capire. Ma ha visto un attimino. Uno dei due sloveni farà bene. Se Roglic sta bene, fa bene Roglic. Poi, mai dire mai. Ionis Aguirre potrebbe far bene, perché arrivò molto bene alla crono che vinse Lucenko. Sì, però non troppo, dai. Non è uno dei nomi proprio favoriti. Mader e Kung, come li vedi? Sì, bene. Kung, però, alle cronature, sì, ha fatto bene o non benissimo, eh? Pensavo che arrivassi... Vabbè, ha fatto un secondo posto dietro il fenomeno Pogaccia della prima crono. Sì, però la seconda in calo, eh? Sì, e poi c'è forse, guarda, l'ultimo nome interessante potrebbe essere Conrad, non lo vedo, interessante, anche se è uscito bene dal tour, Tanel Kangert. Potrebbe, potrebbe far qualcosina. Questo è l'ultimo nome interessante. Questo è quanto. Quindi sono due prove. Prima la prova su strada e poi la prova a crono. Di nomi interessanti ce ne sono. Qualche big ha disertato, come alla Filippa, ad esempio. L'incognita su questa Olimpiade, per la prova su strada, come abbiamo detto prima, è la condizione, il fuso orario, la stanchezza post-tour, perché abbiamo due differenti atleti. L'atleta che si è preparato prettamente per l'Olimpiade, che è già a Tokyo da parecchi giorni, in bolla, eccetera, eccetera. C'è invece l'atleta, come Pogaccia, Van Aert e altri, che sono, che hanno finito il tour recentemente, hanno preso l'aereo e sono partiti ieri notte. E poi c'è anche chi ha fatto il tour e ne è uscito male. Che l'ha fatto il tour per prepararsi alle Olimpiadi e invece... E ha bevuto un caffè turco, associando la battuta di Riccardo Magrini. Quindi, in questo video non vi daremo chiaramente i nostri favoriti, se non qualche nome come abbiamo fatto. Io direi che comunque, Frede, tra queste categorie, quella secondo me da scartare è chi è uscito male dal tour, perché secondo me in una settimana, anche meno, non ti riprendi. Quindi facciamo i nomi di, purtroppo, Vincenzo Nibali, Fulsang, Yates, Roglic, da capire un attimino, Beno, Daniel Martin, gente che non si è mai fatta vedere al tour, fondamentalmente ha fatto poco, onestamente. Questo è quanto. Allora, ci vediamo venerdì sera per una live dove faremo la formazione per le Olimpiadi e quindi lì riveleremo poi i nomi principali. Oggi abbiamo un po' indagato sul percorso e sulla start list e i dubbi che ci sono, che magari verranno svelati in questi giorni precedenti. Precedenti, sì, si può succedere di tutto, purtroppo se viviamo in un momento dove l'imprevisto è all'ordine del giorno. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo per la live preolimpionica. Arrivederci.